Alcuni studenti non se ne sono neanche accorti, altri ci hanno scherzato su. Non deve essere una bella sensazione però stare dietro le sbarre. Il sindaco minimizza e va al sodo. L'importante è che studino e che abbiano delle aule. Fa niente, aggiungiamo noi, che siano le celle di un vecchio carcere mandamentale annesso all'ex pretura all'interno dell'antico palazzo degli uffici statali. Siamo a Bovino, piccolo centro in provincia di Foggia, una decisione figlia dell'emergenza. Pericoloso, secondo alcuni tecnici, far rimanere i ragazzi dell'iceo scientifico all'interno di questa struttura. Il primo cittadino ha così emesso un'ordinanza di sgombero e ha trovato una soluzione alternativa in attesa di ottenere dalla provincia risposte sull'utilizzo di altri stabili. Certamente non è il massimo della comodità però è un ambiente pulito, sano, ristrutturato da poco, in attesa di un posto migliore che potrebbe essere la comunità mondana o l'ex ambulatorio. Fino almeno alla fine dell'anno i ragazzi rimarranno qui in coabitazione proprio con gli uffici del comune. Avessimo avuto una struttura migliore, spiega il primo cittadino, l'avremmo messa a disposizione. Per il momento i ragazzi dovranno accontentarsi di studiare in queste aule. Dietro alle sbarre sì, ma solo come modo di dire.